La Dele è Magdalene fino a Mother, la potrei fare dopo Ma intanto cosa faccio? Contented Lost, faccio una normale, una gridier Dove vado? Mi sa che non funziona la mod Io ho una vita che non gioco, è un mese tipo, minimo un mese che non gioco di più mi sa di più Fa tipo un mese e mezzo Contented Lost poi Perché hai preso la ghigliottina? Perché mi hanno dato solo la ghigliottina, non è che avessi scelto Me ne pentirò probabilmente Ma sarà lì che mi ricorderò di non aver avuto altra scelta Non partire con gridier, non volerti così male Almeno i gridier durano meno Cioè per me da una parte è volermi più male fare una run normale Eh già Però cazzo la ghigliottina quanti danni C'è un oggetto da solo mi ha dato tutto Eh se avessi colpi autoguidati magari Non ho bombe neanche Almeno i colpi spettrali Quello che non ho più è l'abilità di giocare e un oggetto utile alla fine del primo piano Eh vabbè Nooo anche no Ok Ok Grazie. Ok. Ora siamo alla fine del piano. Oh, finalmente il gioco ci degna di una bomba. Potrei cercarla qui, la sigretta, avrebbe senso. Però una sola bomba. Va bene. Allora, io farei una cosa, sperando di non pentirmene, entrerei nel nego... Prima mi faccio il boss. O prima mi faccio... mi vado a cercare una bomba al negozio. Se mi conviene andare al negozio. Non hanno bombe. Hanno more options che non mi dispiacerebbe affatto. Però non ho sprecato un birthright o roba simile, ho sprecato solo una chiave. Buono, il danno è importante. Che fastidio. Allora, ovviamente prendo questo che è vicino all'essere colpi autoguidati. E basta, non ho bombe. Non posso fare niente. Mi andrei a fare la dark room, tipo. che annunciapago se si sta aiutando. Se ci arrivo vivo mi piacerebbe... potrebbe essere onesto tentare di fare la dark room. che non mi sento affatto tranquillo. Mi servirebbe tipo polifimus per valorizzare tanto la cannuccia. Sto andando nel posto sbagliato. La treasure non è lì. Ci sta la dark room, non sarebbe male già. Aiuto, credo di aver rischiato anche tanto. Non mi dispiace, c'è di peggio, però non ha senso esplorare lì. Non ho bombe, quindi non posso aprire quella cesta. Non proverò quella cosa di stare fermo assolutamente. Abbiamo perfection. La speed up sinceramente non mi dispiace. Prendo perfection, anche se le mosche mi stanno aiutando tanto. E mi sa che me ne vado anche. FRIENDS TILL THE END Ho solo 8 monete, non ho bombe, non ho niente. FRIENDS TILL THE END Cos'è che hai provato, scusami? FRIENDS TILL THE END Cioè contro The Widow ma non contro The Wretched. Non lo so, se la provo non è adesso. Meglio. Mi piacerebbe, però è veramente tanto rischioso. Ecco lo sapevo. Ok, questi non sono un problema. Volendo potrei entrarci lì. Ma aspetterei un altro pochino. Beh adesso sì che ci vado. La secret non può essere qui. Beh almeno ho guadagnato soldi. È una chiave. Beh soldi in realtà non per forza. Però sì. Tanti soldi. Ok, l'unica strada è questa. Non mi fido a premere il pulsante. Non ne vado la vera. Cazzo. Non l'avevo neanche vista ancora. Sei chiave. Che pala è stavo per dire minchia. Mi ci vorrebbe un'altra Olicard. Farei saltare questi due. La pillola me la conservo. Cannoci. Che palle. Dovrei essere al sicuro comunque. Non so se c'è solo questo. Ma io non correrei il rischio. che palle che appena il gioco ti dà un accenno di qualcosa la perdi. Quello non lo devo aprire. Questa sì. Eh. Con la luck dovrebbe aiutare. Questa sì. Con la luck dovrebbe aiutare. Questa sì. No. Non avevo assolutamente modo di togliermi. Allora. Questo lo compriamo. Abbiamo 20 monete. E se necessario ce ne ricaviamo qualcuno in più. Quella non mi ricordo qual è. Ma non credo che sia importante. King baby non ne vale la pena. Potrei prendere questo. Non ho più l'alimento. Sono un po' nella merda. Questa è l'unica strada. Mi sento lento. È strano. Sarà che non gioco da tanto. Con l'alimentatore non mi ricordo. Quindi. Grazie a tutti Vediamo se riesco a non farmi ammazzare da sti fuochi Allora Prendo Ocular Rift Posso provare le pillole Devo stare attento a dove le provo anche Ok allora si questa è buona Prevedibile in realtà ma ok Ma dai Adesso che non ho più Che non ho più La 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 carta Non che sarebbe cambiato niente ottenerlo prima Però In realtà cambia che posso cambiare anche a Omuleto Se voglio Tanto non perdo Non perdo niente Non ho niente per teletrasportarmi immagino Lo sapevo Lo sapevo Cazzo se lo sapevo Me l'aspettavo Vabbè Andiamo a perdere sta run con Rockbottom E piangere lagrime a mare Corso the plant Che odio Ci sei ancora Sì Ok Non aspettavo una qualsiasi reazione Alla vista di Rockbottom Io non ci potevo ancora credere Tanto abbiamo perso Abbiamo perso Stai mangiando Scusa Io cosa ne so Ma dobbiamo perdere Però Magari non subito Allora in teoria dovrei essere al sicuro Se non sono al sicuro Non è colpa mia Madonna che rischio Madonna che rischio Aiuto No qua Qua mi ammazzano Ok Va bene Io prego solo che ci sia una Carta Non ha senso Non ha senso Entrare nel lead In coso Se Se non vedo cosa compro E ho paura E ho paura E ho paura a comprare gli oggetti in sconto Perché magari mi esce più il baggy e non becco più card E' più Sì carta holy card Mi rompe il cazzo che ho tutti sti soldi Di impress la potrei anche usare subito In effetti Sono stato stupido a non pensarci prima Non sono abituato ad avere rock button Dovrebbe andare un po' meglio adesso C'ho più speed Non vale la pena Vedremo Allora Qua Qua E allora è qua Cazzo non avevo visto quel fuoco lì Ok Ok calma Tutto a posto Ok Questo non mi ricordo cosa fa Però Mi pare che tipo Non ti fa trovare più chiavi Non lo so Non era qualcosa di particolarmente buono Ho un po' di bombe Vale la pena Però cazzo Basta Andiamo a farci ammazzare da un boss probabilmente Non dovevi manco entrare nel negozio base Se c'era una holy card in vendita L'avrei comprata Anzi Avrei dovuto entrare nell'altro negozio Sperare che ci fosse un re-roll E vedere se mi usciva una holy card in vendita lì Va bene Si è alterato il percorso Si Posso fare un altro tentativo al massimo Comunque quel trinket Non è quello là che ti impedisce di trovare Monete Dopo un certo punto del gioco Mi confondo In ogni caso Non è che mi avrebbe cambiato tanto Sono solo soldi Quello che mi dispiace È che è stato un rock bottom Ovviamente non ho sfruttato Ma manco l'avessi trovato prima Non credo che Avrei potuto sfruttarlo Realmente Più di quanto non avessi già fatto Ah ok Buono allora L'avevo Bocciato come item scarso Non ricordo il motivo E vabbè Abbiamo un po' ben finite Sarà la nostra morte Non lo so Probabilmente Però quando È una vita che non mi capita Sto oggetto So ciò che devo fare Ok Scusa No Non fa assolutamente niente A parte darmi un tier sap Sì che cazzo sì Ma ok Ora devo trovare La super secret Ben pochi soldi Considerando che sto rompendo Tutte le brocche Grazie Altro danno Non fanno ancora L'esplosione grande Però Sarà veramente rischiosa Come run Però da una parte Sono contento così Perché Dottor Fitus Lo volevo Non vado Nei piani alternativi No no Ero sicuro Abbastanza Che non sinergizzasse Ci saranno alcune stanze Che saranno Parecchio problematiche Con questa corso Non ne parliamo Ok Ah già Dobbiamo distruggere Tutto Dobbiamo trovare Crawl Space Dobbiamo sperare Di trovare Crawl Space Che fastidio Chiaramente Il piano Con meno visibilità In assoluto Cambio Ma è sangue freddo Non credo di essere Nella direzione giusta Vabbè aspetto Che si avvicinino Allora Il cubo Mi sembra La scelta migliore Non No Mi tenta Portarmela Però non voglio Rientrare in questa stanza Se è possibile Probabilmente C'è Una sigaret Lì Sì eh Grazie Questo trinket Mi sta piacendo Che palle Lo dovrò mollare C'è un caro Qualcuno vivo Non è male Assolutamente in questa situazione Dieci monete non sono ancora abbastanza Ma forse 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 Dai andiamo a fare una capatina al negozio Una carta bianca sarebbe tantissimo gradita Allora stavo per spegnere quel fuoco ma no Mi prendo il PhD Ha senso Mi prendo il PhD Così non succede niente Una bomba la posso usare Attenzione Che brutta stanza madonna Tornerei indietro a prendermi la pillola Penso ne valga la pena Bombsar key Tecnicamente avevo ragione Ne è valsa la pena Ho trovato la secret e la super secret Eh la pillola in sconto non avevo più soldi Per quello non l'ho comprata subito No Ma in teoria le bombe sono spettrali Perché si è fermata lì? Vabbè Ranger Proprio quello che mi perviva Guarda Penso che mi convenga la testa di gaffi Perché non ho un attivo Avere delle mosche comunque mi aiuta a non dovermi affidare interamente alle bombe E perché ho un pezzo di gaffi? No no sono tornato appena ho recuperato tre monete Di nuovo Sono tentato Però vediamo Una parte di me gioca come se avessi ancora la cannuccia Non va bene questo Lo prendo? Non dovrebbe funzionare Se ce la fai a controllare Se funziona Che rischio di rovinarmi la partita Che per la gag non lo vorrei prendere In un frattempo mi faccio un giro Non hai visto More ice Se vuoi controllo io Non so proprio per sapere se potevi Ok Ah ok Era ciò che temevo E allora lo lascio lì Allora direi Lo steamsail lo prendo Non mi posso permettere altro però Per il momento almeno Palle però Sono tentato anche di esplorare Un altro pochino per vedere se Se riesco a trovare Altri soldi per il negozio Che c'è pure il restock dentro Bene Spero di trovare un Ace of qualcosa Allora Ora ogni tanto La posso anche usare di bombe Ok No io non sono Neanche sicuro di averti detto Il nome giusto Mi ricordo quello che favoro Aiuto Non è così tanta roba Ok direi che si ritorna al negozio La ricerca La ricerca ha dato i suoi frutti Però Direi niente di tutto questo Anzi mettiamo una bomba Anzi mettiamo una bomba Qui Ok Le carte no perchè già c'è la Olicard Beh questo ne vale la pena Non è quello che cercavo Ma si ripaga in fretta Dai speriamo che questa stanza Non mi rovina Bene Bene Niente di niente Niente di niente Ho trovato tutte le stanze Ho trovato tutto il secret Non ho intenzione di farmi quello Ok Ci facciamo il boss con Aendrausi Aendrausi Io onestamente Me lo porterei volentieri Da Dal boss finale Perchè aiuta tanto Però l'Olicard mi serve Intanto qua Non è assolutamente sprecato Cazzo Va pure sopra le rocce Sono incerto se prendermi sto fungo Mi da meno shot speed Però più range No Meno shot speed Però più tears Non mi cambia tantissimo Andiamo a prendere e usare l'Olicard Che palle Non ho manco soldi In abbondanza Per il Per il negozio Eventualmente Cos'era quest'altra pillola? Full hand Corsa di unknown La migliore corse possibile Con questo personaggio Ho paura di aprire tutti I bauli No speed up Non è che mi farebbe schifo Sono andato in palla Completamente Che due coglioni Perchè non l'ho uccisa io Quindi Ero lì che non sapevo Come reagire Non capisco perchè a volte Non sono spenderati Altre si E' un'altra Buona però Ok Ok Non mi devo neanche preoccupare Di Una super tinted Beh ho un po' di soldi Lo smelter Lo smelter E' buono Sono indeciso Se Comprare lo smelter Oppure Rirollare e sperare In qualcos'altro Sono molto indeciso Suppongo che dipende Tutto da quanti soldi Il gioco Deciderà di dare A quanto per Non molti Stavo per dire Cazzo però C'ho Momsky Quindi mi usciranno Tante cose Delle chest Speravo mi dessi Un parere Se non sono Già morto Ovviamente Ok Schifo Dunque Non mi conviene Farmi il boss Subito Allora Lo smelter E' inutile Fino a prova Contraria Cioè mi servirebbe Qualche altro Trinket Per renderlo Utile Batterie Basta Assolutamente Assolutamente No Beh Almeno ho azzeccato La Treasure Buono ma non credo Che funzioni Funziona Ho trovato tutto Però a questo punto A questo punto No Io rirollo E' buono ma non Non è quello che cercavo Però ne vale la pena Devo solo rimanere vivo A sto boss Eh Se è brutto Usa Andra Dov'è il boss Giù Allora ci sei Mi idrato Sì Ehm Niente Ero indeciso Se usare Andrausi Purtroppo Questo boss qua Non andava bene Con le bombe Avrei dovuto usarlo Eh non rispondi Quando ti chiedo Cosa e penso non ci fosse Niente Ehm Cosa e penso non ci fosse